Ciao, sono David Wayne Callahan, un attore americano che sta vivendo questo lockdown a Milano insieme con voi. Come sto? Mi sento come un monaco nella sua grotta che sta affrontando i suoi demoni, ma anche i suoi angeli, devo dire. Poi, sono sempre in un certo punto fra i fastidi e le scoperte, in fondo come nella vita normale. Fastidio enorme. Tutto il mio lavoro, cancellato, chiuso. Riprese. Lavoro in studio. Lavoro sul palcoscenico. Lavoro insieme con chiunque, chiuso. Scoperta. Ce ne sono nuove modalità, nuove iniziative, come questa bellissima iniziativa. Ho fatto un webinar in Instagram. Faccio dei intervisti. Questa è una bella nuova cosa. Fastidio enorme. Contatto con la gente, i miei amici, contatto con i miei collaboratori, giocare, scherzare, beve caffè insieme. Scoperta. Attraverso sempre questo computer posso fare cene, aperitivi, con amici in tutto il mondo. Ho passato ore parlando con loro. È stato un enorme piacere. Ho scoperto la gioia di cucinare. Con creatività puoi trovare le gocce di gioia ovunque. Grazie. Arrivederci. Alla prossima. Come va?